Massimiliano Scuriatti, buonasera. Buonasera a lei. Io sono onorata, un grande scrittore, uno sceneggiatore, un autore teatrale. Basta. Basta. Come diceva tu, basta. Ci parli un po' dei tuoi progetti passati. Cosa hai fatto tu? Progetti passati, a parte essere nato ad Augusta, e questo già mi fa piacere dirlo, dove ci troviamo adesso, sono stato a Bologna per tanti anni, mi sono lavorato al Dams di Bologna, mi piaceva fare questo mestiere, ho cercato di farlo, adesso farei tutt'altro, magari in certi momenti mi viene di aprirmi un qualcos'altro, vabbè. Ma a parte questo, ho fatto tante cose, negli anni bolognesi tanto teatro, che è stata la mia scuola iniziale per capire come si scrive, per cercare, cosa che ancora forse, pian piano, stavano cercando giornalmente di capire. Televisione per alcuni anni, e ancora oggi quando ce la fanno fare, capita anche questo. Ho lavorato nel mondo anche della comicità, nei canali satellitari di Mediaset, io parlo questo molto genericamente, quindi ho avuto contatti anche con i famosi comici di Zelig, per cui la scrittura l'ho trattata e cerco di farlo da più prospettive, da più, insomma, i diversi linguaggi. Una cosa importante recentemente, insomma, importante per quanto mi riguarda se non altro, è un libro, un primo romanzo che è uscito tre anni fa, che si intitola Amico e è tornato coi baffi, e a parte il lavorare attualmente per il cinema, per due progetti cinematografici per il grande schermo, uno internazionale, uno probabilmente ancora non lo sappiamo, fino alla mia... Fino ad aggiungere progetti attuali proprio. I progetti attuali sono proprio questi, uno spettacolo teatrale importante per due attrici e due lavori cinematografici che mi stanno impegnando proprio in questi giorni, per cui sarà un agosto semi-vacanziero, ci sarà molto da lavorare in questo periodo. Altro in questo momento non posso aggiungere, spero che poi mi richiamiate quando potrò dire di più. Ti richiameremo senz'altro. Grazie, così almeno faccio un po' di pubblicità in più. Siamo qui a Shortini. Siamo qui. All'ottava edizione, tu cosa pensi di questo festival? Sono felice intanto di essere stato invitato, oltre che dalla Mondadori, per questa presentazione e di essere poi ospitato da Shortini. Penso naturalmente bene, perché già il fatto stesso di essere entusiasta di questa... Penso bene, sono molto felice che ad Augusta siamo arrivati a fare un festival di cortometraggi di cinema con registi, produttori che provengono da tutto il mondo, nella mia città, nella nostra città, nonostante tutte le difficoltà che i ragazzi, che gli ideatori, che gli organizzatori hanno sicuramente trovato. Quindi sono molto felice di sapere che siamo all'ottava edizione. Un'ottava edizione che è veramente importante questa volta, nel senso che più schermi, più attività, attività collaterali. Quindi si parla di cinema, si parla con i registi, si parla di libri. E' un centro culturale molto importante, quindi che dire, essere presente anche io mi riempie molto di gioia, devo dire, anche di emozione. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi spero che sia l'ottava, l'anno prossimo, l'anno prossimo, insomma, che sia una lunghissima stagione per questo festival. Mandiamo un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi che hanno organizzato Shortini. L'incoraggiamento è proprio quello di continuare con questa, di essere tenaci come sono stati fino adesso. I risultati si sono visti perché dalla prima all'ottava edizione sicuramente ci sono stati dei passi avanti straordinari. C'è il risultato anche non solo della cittadinanza che ne parla da molto prima del debutto di ogni anno, ma c'è anche la presenza di un sacco di professionisti del cinema da tutto il mondo. Questa è la migliore risposta. E' la migliore risposta sia per il lavoro che si fa, sia a una città che vuole vivere di questo. E la gente che sta lavorando su questo lo dimostra. Per cui il mio augurio è continuiamo, continuate così e senza fermarvi mai. Buon Shortini Massimiliano. Grazie, anche a voi. In bocca all'uvo.